Dal prossimo primo giugno partirà anche nelle borgate di Sernia il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Una volta a settimana passeranno gli operatori raccogliendo davanti ad ogni casa i rifiuti contenuti negli appositi contenitori grigi. Dal primo giugno parte la raccolta porta a porta per l'indifferenziato per le borgate di Sernia. Interesserà circa 2000 utenti, sarà consegnato il mastello di colore grigio e la consegna verrà fatta qui all'ex edificio scolastico Ignazio Silone. L'ufficio ambiente è al primo piano, quindi tutte le persone delle borgate possono regarsi qui all'ufficio ambiente e prelevare il mastello di colore grigio. Chi vuole poi prendere anche la compostiera deve fare una semplice richiesta, riempire un modulo che si trova sul sito del comune di Sernia del link ambiente e fare questa richiesta per la compostiera. Ricordo che le compostiere ne sono 400, quindi alle prime 400 domande che arriveranno sarà consegnata la compostiera. I cestelli grigi della differenziata dovranno essere ritirati presso l'ufficio tecnico del comune, ex scuola Ignazio Silone. I giorni sono il lunedì, il mercoledì e il giovedì, gli orari sono il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 16 e 30. Questi sono gli orari di apertura degli uffici per il ritiro del mastello o della compostiera. L'introduzione della raccolta differenziata nelle borgate avrà un costo, ma limitato. La raccolta differenziata nelle borgate costa nei primi sei mesi, quindi da giugno a gennaio, 22 mila euro. Nell'intero anno costerà 44 mila euro, che spammato in tutte le utenze della città di Sernia parliamo di 2,50 euro a famiglia.